Buonasera che si abbia stati già vieni in giro Sorzonovo e Conigni Sandoi benissimo lo sparo di Sorzonovo già un atleta dura da diversi anni, campionese italiane ieri andrà passando solo la campana, sono ancora vicine, va a Serena Cesca, teniamo il passo delle due, volta con noi, vedete l'uno, svolta, credo me, guarda la campana, Sorcionomo, Conigni, Cesca e Pizzini, e adesso si va abbastanza tranquilla, vede Sorcionomo, più la qualificazione di Conigni, e stare molto bene, Serena Cesca, dovrebbe restare la foto finis, probabilmente Sorcionomo e Conigni, aspettiamo l'ok della conferma da parte del... Avete, benissimo lo sparo, è la Lampitelli, riesce ad andare davanti, riesce ad andare davanti, Lampitelli, pori, viotti, e poi l'unica colore della... non lo svolta, chiami, ma rimane davanti la sletta lingua, Lampitelli, poi... Martina Biondi, poi... con le benigne, guardate, e Paoletti, ma sono molto vicine, quando sono nella campana, l'ultimo giro, ultimi 200 metri, Lampitelli, Biondi, guardate benissimo la... traiettoria della Lampitelli, deve rimanere davanti, e... per alimentare il sapore in line, Lampi, 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 Fulmini, e sette, Elena Lampitelli, poi Martina Biondi, in semifinale, anzi, in finale, in tutto, buona...